Bene tre punti per lo spettacolo e il beggioco bisogna ancora attendere. Un Frosinone non trascendentale si impone comunque meritatamente per 1-0 sul Barletta grazie alla rete del giovane Altobelli. Al Matusa contava vincere e i canarini ci sono riusciti. Nella formazione iniziale Stellone presenta la novità russo in difesa, il centrocampo a tre con Altobelli, Sodium e Frara, in avanti Aurelio, Paganini e Ciofani. Nel primo tempo il Frosinone stenta a decollare, manovra farraginosa ed errori individuali, poche le occasioni, ci prova comunque Paganini al sesto ben servito da Aurelio, la sua girata viene bloccata da Liverani. La risposta della Barletta è in un tiro dalla distanza di Cascione che si perde sul fondo. Al quindicesimo Aurelio lavora un buon pallone sull'out di destro e serve Frara, il tiro del capitano finisce alto. Quando la prima frazione sembra avviarsi su uno scialvo 0-0 arriva il gol di Altobelli. È il quarantatresimo, Aurelio dalla destra serve il centrocampista Canarino, bravo a beffare Liverani con un tocco sotto. È l'1-0 con il quale si chiude il primo tempo. Nella ripresa Stellone sposta Frara al centro e Soddimo sulla sinistra con Paganini tra le linee. I canarini crescono, al quinto minuto lo stesso Paganini mette brividi alla retroguardia pugliese che si rifugia in angolo. Sugli sviluppi del corner è ancora Paganini ad impattare di testa con la palla che va di poco fuori. Al decimo frabotta Lanciaciofani che prova a sorprendere Liverani con un pallonetto, ma la spera anche in questo caso finisce fuori. È sicuramente un altro Frosinone, qualche istante dopo infatti Soddimo libera con un colpo di tacco Paganini, il suo sinistro esce di un soffio. I giallazzurri vogliono chiudere la gara. Al ventisettesimo ancora Paganini semina il panico in aria e serve Frara. Il tiro del capitano si stampa questa volta contro il pallone. Il Barletta in pratica non esiste in questa fase del match. I ragazzi di Orlando infatti si risvegliano solamente nel finale. Al trentaquattresimo Derrico dalla sinistra chiama Zappino alla deviazione in angolo. A due minuti dallo scadere il numero uno giallazzurro salva letteralmente il risultato con una paratona su un tiro scagliato dai lari. È l'ultima emozione del match. Dopo cinque minuti l'arbero infatti decreta la fine. Il Frosinone prende tre punti, la migliore medicina per dimenticare il capo di Catanzaro e per preparare la trasferta di Nocera.